Buonasera Feltri, allora pare che Marta Fascina abbia preso in mano le redini di Forza Italia, scalzando di fatto lì c'è Ronzulli. Sì, infatti, è un bene per la Ronzulli. Ah, no perché so che lei aveva... No, perché avendo un passato lavorativo in ambito medico, può tornare ad essere utile nell'ambito della ricerca scientifica. In che senso? Eh, facendolo a cavia da laboratorio. No, no, ma guardi... Ma no, è importante, è un ruolo serio, bello fatto bene. Ma vorrei che non facesse del sarcasmo. Uno scienziato dice, ma funziona questo siero antivipera? Ah. E l'altro dice, non lo so, testiamolo sull'Ronzulli. Non cominci, guardi, tra l'altro contro l'Ronzulli lei è già andato oltre il limite su Twitter. Ma no, lei che va oltre il limite, lì oltre il limite di cosa? Ma ha fatto due Twitter che non ricevete. Ma no, ma il limite semmai ce l'ho io. Perché cosa dici? Perché ogni volta che scrivo sul mio fighissimo computer Apple, ci scrivo Ronzulli, il mio computer regredisce fino a trasformarsi in un Olivetti dell'83. Ma qua la smetta! con la memoria di un macaco con Alzheimer. Senta, guardi, io capisco che... Adesso poi gira la voce che io avrei invitato l'Ronzulli a mangiare una pizza. Eh sì, è girata questa voce, in effetti. Ma no, perché lei è sempre dalla parte della retorica. Ma che retorica? Sì, dell'ipocrisia. Ma no, io solo... Ma no, a parte che non è vero che l'ho invitata. Non l'ha invitata. Perché a me la pizza fa schifo. Vabbè, ma adesso non è che uno dice... Al limite una leccatina al pomodoro la darei. Sì, adesso non andiamo su quei terreni. Allora, Ronzulli, piuttosto che slapparla, andrei a Firenze a tirar via con la lingua tutta la vernice da Palazzo Vecchio. Ecco come... Però non esageri sempre. No, è lei che esagera. Che cazzo vuole? Io non esagero. Allora, io vado a ricercare... Lui che mi sta sugli Zebedei... Ma non ci interessa. Ma mi sta tanto sugli Zebedei proprio seduta sopra che il suo peso me li trascina verso terra. Perfetto, bene. Anche se nel mio caso, data l'età, già da soli stanno a un paio di centimetri dal pavimento. Mamma mia. Ci ha informati sul suo Stato. Ha finito? Possiamo fare un ragionamento un po' più? Ha finito? Non ho finito un bel niente. Ma no, perché il mio è un discorso politico. Io ce l'ho con l'Aronzulli perché ha fatto più male lei che l'ossessione di Berlusconi per la spennacchiotta. Ma perché? Non capiamo perché... Perché invece di portare il partito tra le braccia della Meloni lo volevo portare tra le cosce della Schlein. Ma cosa dì? Ma no, ma no. Ma come cosa sto dicendo? Pascale non ha forse detto che non vede l'ora di finire nella cespugliotta della Schlein. No, ha detto che la voterà. Ma cosa c'entra la Pascale con l'Aronzulli? Ma mi sembra evidente che tutte le donne che sono state a stretto contatto con Berlusconi fanno il salto della quaglia. Ma no, ma no. Dal Wüster passano allo strichello. Ma chi l'ha... Allora, tanto non usi sti termini. Ma poi chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma meno male. Ma chi l'ha detto? Ma meno male che ora la fascina... Forza Italia diventerà un po' più Meloniana. Ecco, questo politicamente... Così come Meloniana sarà finalmente anche a breve la Rai. Certo. E che cazzo! Allora, il linguaggio la prego. Ma il linguaggio di cosa? Lo dice l'Annunziata? Non posso dirlo io. No, non è il caso. Dov'è che poi l'Annunziata mica l'ha detto alla Rocella in studio? Ma sì che l'ha detto. Ma no, è che l'Annunziata non si capisce mai dove guarda. No, la prego. No, 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 no. Ma no, per cui sicuramente ha imprecato ad uno che passando le ha rigato la macchina sotto casa. Basta, basta. Non insulti l'Annunziata. Ma no, ma non insulti. È la verità. Lucia Annunziata è l'unica donna al mondo che per truccarsi in auto guarda lo specchietto retrovisore della macchina accanto. Allora, per favore, io le chiedo una volta tanto, se vogliamo altri, facciamo un ragionamento politico, senza dover proprio cadere in queste cose maschiliste. Ma cosa sarà mai? Le è sfuggita una parolaccia? Che cazzo? È anche l'etero. Dove? Che cazzo? A me non è sfuggita perché io chiudo le frasi proprio così. Va bene, va bene. Al posto del punto. Ecco, se può evitare. Eh, che cazzo. Lei vuole limitare, scusi, la mia libertà di espressione. No, la volgarità sì. Perché non sono allineato al pensiero unico. Ma qual è sto pensiero unico? Lei mi aggredisce così come l'Annunziata ha salito la Ministrella Rocella con la mamma alla bocca. Ma non è vero che l'Occhio, l'Occhio iniettato di sangue. Dell'Annunziata, sì. Solo uno va a sapere quale. Basta! Perché li ha mescolati come due dadi. Tant'è che voleva azzannarla la gola invece si è gettata sul polpaccio del camera. Ma allora, si rende conto di cosa sta dicendo? Ma no, sto dicendo che l'Annunziata da comunista, qual è, ha perso la ragione per difendere l'orida pratica dell'utero in affitto. Ma non ha difeso la pratica. Che poi a me dar soldi in cambio di un utero va anche bene. Cosa dice? Ma solo una cinquantina di euro, giusto quella mezz'oretta. Per favore. Anche se io su 30 minuti, 20 abbondanti, li spreco solo per cercarmelo. Va bene, allora insiste sempre su questo tema. E comunque l'Annunziata si è comportata da teppista perché è di Salerno. Cosa c'entra? In provincia di Salerno. Ma cosa c'entra adesso che sia di... Ma cosa c'entra adesso? Ma lei proprio non sa un beato di niente. Ma cosa c'entra? C'entra sì perché i meridionali non sanno tenere a bada gli stinti animali. La smetta di parlare così. Prova ne siano i falò di San Giuseppe a Taranto. Va bene, l'abbiamo visto, è esploso. Che li sono sfuggiti di mano. Eh sì, va bene. Perché il fuoco da quelle parti l'hanno scoperto da poco. No!